Grazie, buona giornata! Ciao, ciao! Sono qui per prendere gli ingredienti per una prossima ricetta dell'orso. Buongiorno, potrei avere una vaschetta di raspadura? Certo, io la faccio al momento, guardi. E mi fa vedere come si fa qui. Guardate che bellezza. La compresca. Si sente il profumo, ma è bellissimo da vedere anche. Ho fatto la spesa al mercato contadino per le ricette delle prossime settimane. Vi aspetto tutti i giovedì puntuali con la ricettina. Della settimana è il venerdì sulla pagina del mercato contadino. Ciao!